Ehi, a proposito ragazzi, qualcuno ha notizie di Gohan e Goten? E di Trunks e Vegeta chissà niente? Come faccio a dirglielo? Ah, povero Vegeta. Allora, che cosa è successo? Quel mostro di Majin Bu ha eliminato Gohan. Il nostro adorato Gohan. Ok, ti prego, sei forte. Sai qualche cosa, Goku? Mi spiace, ma prima o poi l'avreste scoperto comunque, perciò... I piccoli Goten e Trunks stanno bene. Ma Vegeta e Gohan purtroppo non ci sono più. È stato Majin Bu a farli fuori. Oh no, non ci credo, non è vero. Il mio Gohan... Oh no, non è vero. Oh, Kiki! Oh, shit! No, non è vero! Piccoli, non fare così! Calma! Su, casano! Oh, figlia mia! Oh no, no, non è giusto! Perché è proprio lui! Eh... Oh no, non è vero! Oh no, non è vero! Oh! Oh no, non è vero! only... inывать up come... Invals... Grazie a tutti.